Ciao ragazzi e benvenuti su questo video Questa sarà la seconda parte del video di un giapponese a caso che reagisce alle donne più belle della tv italiana In questo video la versione delle young che sono quelle che ci avete suggerito voi su instagram Perché alcuni nella puntata precedente si sono lamentato del fatto che molte di queste ragazze fossero un pochino troppo in su con gli anni Quindi volevamo far conoscere ad a caso anche una bellezza più giovane La prima è Ludovica Pagani Ok Bella I think she would be liked in Japan Prossimo Chiara Nasti Mi piacciono i suoi capelli Taylor Mega Do you think Japanese people would like it? No, I don't know, they would think she's porn star or something Chiara Biasi La prossima è Miriam Leone Ti piace? Si, bella Mi segue su instagram È un'attrice famosa Piacerebbe anche ai giapponesi La prossima Chiara Ferragni Giulia Delellis Giulia Delellis Non so chi sia Giulia Delellis Ok, she's pretty Yeah, she looks like one of the Kardashians Really? Yeah La prossima Alessandra Mastronardi Ok Ok La prossima Yeah, she's beautiful, I think La prossima Serena Rossi Oh, I like her I like the makeup Yeah, it's more natural Why Everyone wears So much makeup So much makeup Enrica Giudi Oh, I don't know I feel like she's gonna kill me Maybe in this photo She's angry La prossima è Michelle Hunsiker No No? No She's beautiful, I think Do you know how old she is? 30... 38 La prossima Pollettina Creation To be honest Compared to the girls With so much makeup Mmm I would choose her Ok Yeah Preferirebbe lei a una di quelle piene di makeup Yeah È una bellezza acqua sapone Be yourself Yes Annalisa Scarrone I think she's a singer Like her Her eyes Lips, yeah Chiara Francini Yeah, she's beautiful La prossima è Aurora Ruffino Mmm She's cute The most natural So far Except for Pollettina Creation Yeah I mean Yeah, she's beautiful She's so cute I like her Poi Bianca a 6 Oh... I don't know Plastic surgery Sembra molto rifatta Andiamo avanti con Denise Tantucci Mmm She's cute Alessandra Moroso Who? Who? She's a singer Ok Francesca Chileni She's so much beautiful Oh... I like her She reminds me a bit of Rebecca Black Miriam Dalmasio Ok, she looks like Emma Stone Vittoria Puccini She's beautiful Elisa Maino I don't like her hairstyle It's very 2000 Poi Emma Muscat Ok Poi Mara Mayonchi She's a famous music producer She looks like red From Orange The New Black What the beauty is there? Why? She's a famous music producer You never know She might watch this video You're so beautiful I would like to meet you someday Francesca Cipriani Why is this clothes? Poi la prossima Elisa She's a singer She's not known for being beautiful But for being very talented Mmm, I like her Unique Se ti piacciono quelle unique Ti piacerà anche la prossima Loredana Bertè Wow Yes? She can be in the... Ghibli What was that? Castle Sembra un personaggio del castello errante di Howl La prossima, Arisa Oh yeah, she's beautiful Andiamo avanti con Malika Ayane Che non so chi sia Ayane? Yeah, her name is Japanese She looks cool Poi andiamo avanti con Chiara Baschetti I don't know I don't know She's beautiful Yeah But not my type Poi la prossima Matilda De Angelis Oh, I think I like her Valentina Belle She looks like one from Game of Thrones Daenerys Laura Pausini Laura Pausini I mean she's beautiful But she is too strong for me Poi la prossima è Tina Cipollari Plastic Sager Non penso che sei rifatta Sei rifatta Non ti piace? No No In Giappone piacerebbe? No No I don't think so Dolce Nera Why is this photo? I don't know I choose This photo is not really cool What happened to her neck? Andiamo avanti con Clarissa Marchese She's beautiful I like her face And hair Very much But I don't like outfit Ok la prossima è praticamente Kim Kardashian dalla foto che ho scelto Comunque Giulia Salemi Non so chi sia Definitely look like Kim Yeah I think Kim Kardashian Have the same photo too Bianca Balti I like her Stella Amanente No No People don't really like her very much Federica Nargi Yeah she's beautiful Melissa Satta Yeah she's beautiful Rosa Perotta I like her eyes but I don't really like her lips Alice Pagani Oh She's beautiful At TV show On Netflix I think she's good at modeling Ok Finito Everyone was beautiful I think for me And a lot of Japanese people They like Woman with less makeup Più naturali dovete essere Quel piacere ai giapponesi We don't really like Kim Kardashian Kim Kardashian non è tanto famosa in Giappone In Japan no No They know her Because of Kimono Yeah La conoscono soltanto per la sua marca di intimo per rimodellare il corpo che voleva brevettare Kimono Se non avete visto il video in cui la insulto andate qui Noi ci vediamo domenica chi vuole a Venezia che faremo un altro video prank Non vedo ora Ciao